In questo periodo di festività pasquali la Polizia di Stato opera in sinergia con le altre forze dell'Ordine per intensificare le numerose attività di controllo. Il Paese per queste festività pasquali sarà interamente una zona rossa e dunque soggetto ad alcune restrizioni, considerate necessarie per contribuire al contrasto della diffusione del virus responsabile dell'attuale pandemia. E quando ci sono regole da rispettare, come in questo periodo dove il non rispetto può essere molto pericoloso, devono necessariamente esserci i controlli. E quando servono i controlli non si può fare a meno della Polizia di Stato e delle altre forze dell'Ordine, soprattutto i carabinieri e gli agenti della Guardia di Finanza. Così arriva la comunicazione da parte della Polizia di Stato di una sinergica, in particolare da domani, azione di controllo del territorio della provincia di Campobasso e del Morise, attraverso numerose pattuglie interforze impegnate nei maggiori centri e nelle località dove potrebbero verificarsi assembramenti. Intanto i dati della Polizia di Campobasso raccontano dal mese di marzo dello scorso anno di oltre 100.000 controlli nei confronti dei cittadini, effettuati da tutte le forze di Polizia in riguardo alla normativa anti-Covid, mentre circa 2.000 quelli agli esercizi pubblici e 1.900 le sanzioni complessive elevate. Dati che insieme a quelli del numero dei morti, dei ricoverati e dei contagiati implicano una continuità di controlli e di grande attenzione. La pandemia si combatte anche con il rispetto delle regole. Per salvarci le regole servono e bisogna davvero che tutti le rispettano. Grazie. Grazie.